Comunque, Pavlov e i suoi famosi esperimenti sui cani, la scoperta del riflesso condizionato. Molti ne avranno sentito parlare. In pratica quest'uomo nutriva dei cani associando all'atto di sfamarle il suono di un campanello. A lungo andare i cani associarono il suono del campanello al cibo, al punto tale che anche in assenza di cibo bastava suonare il campanello per ottenere una loro reazione condizionata come la salivazione. Niente cibo, ma i cani salivavano come se ci fosse stato. Pensate che questo risultato si possa ottenere solo con esseri viventi che magari giudicate inferiori come i cani? Sbagliato. Altri esperimenti effettuati in anni in cui l'etica non risparmiava nemmeno gli esseri umani hanno dimostrato che era possibile far nascere artificialmente una fobia, ad esempio semplicemente associando un elemento spaventoso ad un altro. Nel caso specifico ad un neonato riuscirono a far sviluppare la fobia verso una comune pallina rossa, solamente mostrandogliela ripetutamente assieme ad un pupazzo dalle fattezze mostruose. Pavlov condusse altri esperimenti, forse un po' meno famosi. Uno di questi consisteva nell'insegnare ai cani a distinguere un'ellisse da un cerchio. Gli animali erano addestrati a premere due diversi bottoni a seconda della figura mostrata. Pena per l'errore, o la mancata risposta, il dolore. Una scossa elettrica. L'esperimento, nonostante la barbarie e il cinismo applicato, divenne molto interessante quando, volutamente, ai cani vennero mostrate ellissi sempre più simili a cerchi, al punto che era quasi impossibile distinguerli. Di fronte a questo tranello, sorprendentemente, i cani svilupparono tre comportamenti principali. Uno, catatonia. Disarmati dall'impossibilità di scegliere correttamente, i cani smettevano di rispondere e accettavano il dolore. Due, paranoia. Pur di riuscire a dare la risposta corretta, i cani ricorrevano a diverse metodologie e stratagemmi assurdi e palesemente inefficaci, con una foga ed un rigore paranoico. Tre, forme di schizofrenia. Cioè risposte casuali senza logica. Questi comportamenti artificialmente indotti accompagnavano l'animale anche successivamente ai test, mostrandone gli effetti nelle relazioni sociali con gli altri cani e con l'uomo. Diventavano apatici, si isolavano, oppure diventavano iperattivi, aggressivi. Proviamo per un secondo ad immaginare di applicare questo esperimento alla nostra società. Che cos'è che ha ridotto i cani in quello stato? La privazione di una scelta sicura, derivata non da una privazione di libertà, ma ottenuta con la manipolazione delle opzioni di scelta. L'impossibilità di distinguere che cosa poteva causare loro sofferenza e cosa invece poteva salvarli. Che cosa servirebbe quindi per produrre lo stesso risultato sulla popolazione? Cioè senza apparentemente ledere alcuna libertà individuale, riuscire ad inibire la libertà di scelta attraverso l'impossibilità di determinare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è bene e ciò che è male. Pensandoci bene, la nostra società è stracolma di organismi, leggi, masmedia che si occupano proprio di ottenere questo. Come ha già detto qualcuno, tutto è capovolto, tutto è sottosopra. I dottori distruggono la salute, gli avvocati distruggono la giustizia, le università distruggono la conoscenza, i governi distruggono la libertà e i media principali distruggono l'informazione, le religioni distruggono la spiritualità. Non si può riassumere in modo migliore la nostra società. Pensate solo al fatto che oggi muoiono più persone per errate cure mediche che per malattie, che il capo di una delle più famose religioni che predica la povertà è ricoperto d'oro, che lo Stato ripudia l'omicidio e la guerra ma chiama eroi i soldati che manda a combattere per scopi tutt'altro che umanitari e non spende una parola per chi invece le vite le salva. Potrei andare avanti all'infinito. La nostra società è piena di ellissi che assomigliano a cerchi e noi facciamo la fine dei cani pavloviani, impauriti, spaventati oppure incazzati fino alla pazzia, ma comunque sempre apparentemente liberissimi di scegliere. In realtà è molto difficile portare qualcuno a fare del male, è molto più semplice ingannarlo e insegnargli cosa è bene e cosa è male in modo confuso o pilotato. E poi c'è la trappola della divisione, perché se un'arma contro la popolazione è quella di demolirne i principi e rovesciare gli opposti, un'altra è quella dell'omologazione, dell'etichetta, è riuscire a mettere l'una contro l'altra persone che la pensano esattamente la stessa maniera. La massima espressione di questo trucchetto è la politica e l'invenzione del concetto destra e sinistra. Sono riusciti a creare queste due etichette così potenti e omologanti che sono diventate il cardine del nostro paese. E non solo, ne sono stato testimone più di una volta. Tempo fa, alla fine della proiezione di un piccolo documentario di mia produzione, fra i complimenti che ho ricevuto ce ne furono un paio che suonavano un po' così. Ah, complimenti, sei un po' di sinistra tu, visto che sei dalla parte del popolo, hai parlato dei diritti, di fratellanza, unione, libertà. Un mese fa invece, a seguito di un volantinaggio che tra le altre cose promuoveva la fine della svendita dello Stato in favore dei banchieri privati, ho suscitato il fastidio di un gruppo anarchico perché secondo loro il volantino era partorito da un'ideologia di destra. Non è stata certo la mia ideologia a cambiare così radicalmente. Ho solo toccato degli argomenti che l'establishment ha etichettato come di destra o di sinistra. È così che ci fottano. Danno un colore, una divisa, come la maglia di una squadra di calcio a degli argomenti e fanno in modo che non accada mai che tutta la popolazione sia d'accordo su qualcosa. Invece dovremmo sforzarci tutti al fine di denudare ogni concetto dal costrutto sociale che lo opprime. Sapete i due video che ho creato su Monti e che hanno riscosso un po' di successo? Li ho visti condivisi su molti blog, alcuni di sinistra, anche di estrema sinistra, comunisti, anarchici. Altri blog invece erano di destra, anche di estrema destra. Provate a chiedervi perché. Perché in questo contesto persone con apparenti ideologie differenti, separate le une dalle altre, nude, davanti alle mie nude parole, sposano lo stesso pensiero, mentre nell'arena pubblica costruita da mass media si sarebbero azzuffate senza arrivare a nulla. È così che ci fottono. Ad esempio, seguendo la logica fallace e ottusa di chi dà ancora un colore e uno schieramento alle idee, l'Europa e la moneta unica sono nate da un'ideologia filonazista di accentramento del potere, quindi di destra. Perciò il contestarla dovrebbe essere in sintonia con un'ideologia di sinistra. Però, se si combatte, di conseguenza si dà valore all'indipendenza e la sovranità del popolo sul territorio nazionale. E questa, invece, è di nuovo un'ideologia di destra. Così pure come bollata di destra l'ipotesi di riappropriarci della stampa della moneta che abbiamo regalato prima a dei privati italiani e poi a dei privati stranieri e italiani. Con questo tipo di ragionamento si arriverebbe ad una situazione in cui la sinistra, anche quella radicale, fino all'anarchia, si troverebbe a non fare niente per la situazione degradante e schiavista in cui siamo precipitati, pur avendone tutti gli interessi e gli argomenti per controbatterla. Viceversa, chi iniziasse una protesta in questo senso sarebbe bollato come un pericoloso nazionalista di estrema destra. In effetti, è proprio quello a cui siamo arrivati. Mi domando, quando è che giungerete ad essere davvero indipendenti rispetto ai giuchetti del sistema creati per dividervi e riuscirete finalmente a far cessare questa eterna adolescenza ideologica che non vi fa staccare dalla tetta del condizionamento mentale. La libertà e la lotta contro l'ingiustizia non sono né di destra né di sinistra, così come non sono la lotta contro gli Stati Uniti fascisti d'Europa e contro lo schiavismo dei cittadini ad opera del sistema bancario-finanziario. Fatevene una cazzo di ragione, questa lotta non ha colore e riguarda tutti. Nessuno è a favore della guerra nel profondo del suo cuore, tutti siamo a favore di un mondo più equo per la libertà, la condivisione e la libera espressione. Chi ci governa non è solamente incapace di offrirci queste soluzioni, ma ci manipola affinché pensiamo di essere antagonisti e impossibilitati ad unirci ed ottenerle. Guarda bene, non è né un cerchio né un'elisse.